Saluto a tutti e voglio dire via a Dio! Oggi voglio parlare per il mio interesse che ho accaduto in Cineo l'altro tempo. Voglio parlare per questo tema, perché ho visto molte difficili per questo tema, in Facebook di esperantisti, e, sinceramente e sinceramente, mi devo dire che tutti e tutti i commenti sono tutti messi. E poi, quando ho cominciato a parlare per Dio, mi devo dire che passando settimana mi faccio film solo per Dio che mi soffero trafondi del grippo, perché non mi sento così bene, e così più. Mi sono per Dio, quindi non perché mi sono morto. Quindi, per Cineo. E poi, mi devo dire che mio interesse è Cineo, e, quasi tutti i miei clienti trovi in Cineo, perché mi sono in inglese, quindi, mi sono bene conoscere la situazione, e mi posso dire che la parte di esperantisti si è un po' di noi per quello che succede in Cineo. Quindi, che succede? Se vi leggere la nuovazione, vi verissimamente, perché i miei clienti, in Cineo, non più potessi, o non sono permesso, o non sono permesso, o non sono per profondi. Questo significa che i investitori, o investitori, i miei clienti, e, sicuramente, non è piaciuto questo, e trova molto in più i miei comuni, i miei clienti, 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 del mondo. E, effettivamente, Australia fa questo, per la settimana. E, senza, il registrato vuole trovare diverse statistiche per la popolazione, e, per questo, il registrato, i miei clienti, i miei clienti, che la popolazione, cominciata a crescere, ma dopo questo, trova che effettivamente, che cresceva, e, per questo, che causò molte problemi, dopo cinque anni, principalmente, economiche problemi, e, quando il registrato, i miei clienti, cominciano a fare passi per risolvere questo, per l'Australia, è molto facile risolvere questo problema. Nei semplici malfermi i miei porti, e, laute blecai, fremdului, veni al Nielanduo! Nei bisogna più di lavoratori, per risolvere i miei problemi, e, quindi, amassati da persone, e, malericati landi, veni al Nielanduo, per risolvere i miei problemi. Bene. Ma, se noi non siamo, come i occidentali, quindi, ne semplici, accettiamo amassati, di fremdului. Possessi venire, e lavorare, per il tempo, ma non è facile, per fare gii, constanti, loggianto di Lando, e, essenzio, fremdului, veni al Nielanduo, per lavori, ma anche, perché, vogliono fare gii, membri, dei miei sozioni. Quindi, non è facile, in Cineo. In Cineo, deve trovare, in Cineo, in Cineo, semplicemente, più educato, perché, in Cineo, in Cineo, in Cineo, in Cineo, trovi buoni labori, che, povesi doni alvi, buoni materiali vivi. Dò, per avere tion, vi dovrisi iri al, la plai buona università. Cai, per iri al, la plai buona università, vi dovrisi, trapassi, ciun, le examenei, con tre, alti, poentui. Sed, per fare tion, vi dovrisi essere, tre, intelligenta. Dò, tio, signifas, che, presca, ciui, elegepaturi, tie, sem da sien, infanno, alcroma, studi, cè, mentorei, cun, instruistui, per i diversi afferi, sed, l'acultima, l'acultima, infanno, in Cineo, e, senza studiare, dì, presca, la nocto mezzo. Cai, senza, privati, aveva, per i diversi, la siena, insegurata, inglese lingua, a di bals, a di un'eara, circa, la nocto mezzo. Per i diversi, non, viceversi, se, li, studiare, si, sin, non, vivi, e, e i giovani, per pagare i giovani, non vogliono avere ancora un'infana Un'infana è sufficiente, devi investire ciò e in questo tempo non successe per questo età ora via Il registrato vogliono cambiare il fatto che la popolazione cominciò a crescere perché può creare problemi economiche ma devi andare a pushare i giovani per avere più di giovani Quindi vedo il problema che il problema è per la concorrenza educazione Quindi per il registrato, il registrato è semplice Sembile mal promesso amassano educazioni posto l'erenea di ore Se se fosse un buon soldo, mi non ci sono Longo tempo, se mi posso dare un mio perspectivo posto Quindi, essenzialmente, non è più l'infana che hanno amassato le cose O studiare in fine C'è l'ereneo e l'ereneo, non è più l'ereneo e l'ereneo Non è più l'ereneo, non può accettare investimenti Perché non hanno creato un'ereneo in la società Quindi, ovviamente, quando avessi l'ereneo, pensi Non è più l'ereneo, perché significa che l'ereneo non sono così premite Che i giovani non sono così premite Se il problema è più profondo Perché in fine, l'ereneo educazione è più semplice Oh, mi voglio avere buon materiale in vivo Temo per l'honore E anche per l'ereneo di cultura posti Perché in fine, la più intelligente persona è più l'ereneo di altri Quindi, quando ho registrato Decidito che voglio cambiare le lezioni Di essenzialmente creare un malegalezza in la società Perché mi potrei dire l'ereneo Perché dopo le cambiamenti Mi ho cominciato a ricevere più dapperti Per i miei servoli Che l'anglais ha instruito in Cine Quindi, mi ho visto Che effettivamente, di non creare più di concorrenza Perché, semplicemente creare più di opzioni Per trovi educati Da più di persone vengono a me Perché le lezioni e 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 lezioni Quindi, mi credo Per la mia perspectiva Che creare un malegalezza Perché solo lezioni Che possono pagare lezioni Ma come me Instrui l'anglais Infatti, inoltre i miei Inoltre i miei Non potrebbero essere Inoltre lezioni Mi credo Che la situazione Che può pensare Che non lo so Mi credo Che non lezioni Che inoltre i miei Ma lezioni la malcresco della popolazione e voglio trovare solvoli e così sembra che sia la più facile in questo caso questo è la mia perspectiva spero che vi siate questo film se vi non siate molto bene vi aspetto a tutti i Youtubisti e vi vedo i vinciti in la verona film e non dimenticare il mio Patreon e donare a me perchè mi sono un maledice anglico e mi voglio essere un maledice esperanto GIZ EDUCATEM!